salve a tutti e benvenuti in un nuovo video a s m r oggi, oggi, oggi farò un po' di trickers e spero che siano a vostro gradimento e che siano in grado di rilassarvi cominciamo subito con il video insieme a un'altra, insieme a un'altra, insieme a un'altra e, insieme a un'altra, insieme a un'altra e, insieme a un'altra cosa che va a fare Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.